È un lavoro che è iniziato già da tempo nella redazione delle guide di Repubblica, che ha individuato Arezzo come una città interessante da questo punto di vista. Poi si è stabilito il contatto diverso tempo fa e abbiamo contribuito come comune, come amministrazione, a redigere quella parte più legata alla veste artistica, storico-artistica della nostra città. Una guida per raccontare le bellezze di Arezzo ai turisti e spiegar loro i segreti, le particolarità e le suggestioni di questa terra ricca di storia, arte e cultura. Nasce così la guida turistica firmata da Repubblica in edicole libreria da oggi, mercoledì 26 maggio. La guida di Repubblica è un misto tra una proposizione di una città artistica, di una città storica, ma di una città viva. Quindi loro presentano ovviamente anche i ristoranti, ripresentano gli artigiani di Arezzo, gli artisti aretini, quindi presentano la città viva, è questo vorrei dire. E noi abbiamo contribuito a dare quel taglio che ci interessava perché Arezzo si presenti come città d'arte. Un racconto che si sviluppa anche attraverso le parole di alcuni testimonial d'eccezione. Sì, assolutamente sì, ci sono i nostri uomini di punta dal punto di vista mediatico, i testimoni al di Arezzo, a farsi da pupo per andare avanti con Beppe Angiolini, per andare avanti con altri artisti, persone dello spettacolo della nostra città. C'è poi da dire che questa guida, quando mi è stata proposta dal direttore Cerasa di Repubblica, ho aderito quasi immediatamente, anche perché mi ha assicurato che se il Comune sostiene economicamente non tanto questa guida, sulla quale abbiamo messo delle risorse, ma in maniera molto più consistente, è in grado di farci una guida in inglese. E questo secondo me è il toccasana per la nostra città, perché non abbiamo guide in inglese di questo spessore.